Un finale in salita segna l'epilogo della seconda tappa del Giro Ciclistico della Lunigiana 2016. Ad avere la meglio è il kazako Vadim Pronsky. Seconda posizione per il Veneto, Samuele Battistella, terzo e nuova maglia di leader alla termine della seconda tappa, Tadej Pogacar della Nazionale della Slovenia. Tadej, ieri un secondo posto, oggi un altro posto sul podio e alla fine è arrivata anche la maglia di leader. Sì, sono molto contento per questo risultato, è uno dei miei obiettivi principali, riuscire a vincere in classifica. Ovviamente mi piacerebbe anche vincere una tappa, ma se non dovesse arrivare la vittoria di tappa sono comunque contento e proverò a dare il massimo per tenere questa maglia anche alla termine della tappa di domani. Grazie. 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 Grazie.